Giovedì 18 gennaio l'arcivescovo Mnurhan Manujan, patriarca della chiesa armeno-ortodosta di Gerusalemme, ha fatto il suo ingresso solenne a Betlemme per le celebrazioni del Natale, ad accoglierlo parrocchiani e pellegrini insieme a numerose autorità civili e religiose. Dopo l'accoglienza il patriarca, accompagnato da vescovi religiosi della chiesa armena, si è recato nel convento all'interno del complesso della Basilica della Natività. Sebbene in Armenia e in tutto il mondo ortodosso le festività natalizie iniziano il 6 gennaio, in Terra Santa cominciano il 18, una solennità che culmina con la messa di mezzanotte. Grazie a tutti!